Stanno prendendo d'assalto tutte le aziende, una per una. Ladri nuovamente in azione in via Gobetti, ad Arezzo, dopo l'assalto ad un'azienda ora fa della scorsa settimana, con un bottino da decine di migliaia di euro, questa volta nelle mire dei malviventi, la sede di un'azienda produttrice di caffè che si trova proprio a qualche metro di distanza. Il colpo è stato messo a segno nella notte tra domenica e lunedì attorno a mezzanotte. La banda, una volta entrata, dopo aver forzato l'ingresso, ha messo fuori uso delle telecamere di videosorveglianza, che comunque sono riuscite ad immortalare le loro sagome, tre o quattro persone ovviamente a volto coperto. La mattina abbiamo trovato una devastazione complessa di tutti gli uffici, soprattutto l'amministrazione, hanno preso la cassaforte, dove però c'erano solo documenti, è stata forzata, proprio aperta, probabilmente in un martello pneumatico. Un bottino dunque quasi nullo, ingenti invece i danni. Ritrovarsi in questo stato a suo quadro non è piacevole, poi sono danni economici che era meglio non subire. La polizia sta portando avanti le indagini, si cercano possibili collegamenti tra questo furto e quello della settimana scorsa, ma anche con gli altri episodi che hanno interessato le aziende ora fearettine. Una decina e meno di due mesi tra tentati e consumati, che ovviamente riportano nel terrore l'intera categoria. Il consiglio è sempre lo stesso, chiaramente di stare attenti, di tenere la guardia alta e di fare il passaparola, di comunicare tra di noi come abbiamo sempre fatto, soprattutto nel passato quando il pericolo era ancora più forte di adesso.